I carabinieri della sezione radiomobile di Paternò hanno deferito in stato di libertà per combustione illecita di rifiuti un 56enne del posto. Al riguardo i militari durante un servizio di prevenzione a largo raggio volto a contrastare in particolare i reati ambientali nel transitare lungo una strada in località Tre Fontane del comune di Paternò hanno notato nell'opposto senso di marcia un'autovettura che stava trasportando un ingente carico di materiali seguita a brevissima distanza da uno scooter. Insospettiti i militari si sono posti sulle loro tracce sorprendendo i conducenti dei due mezzi dopo alcune centinaia di metri mentre stavano scaricando numerose bottiglie e scatole di plastica sul ciglio della strada. Gettati i rifiuti l'automobile si era immediatamente allontanata mentre il soggetto sul ciclomotore era rimasto sul posto dando fuoco al materiale di risulta con il proprio accendino. Prontamente bloccato dai carabinieri che mediante gli estintori in dotazione sono riusciti a estinguere l'incendio è emerso come il 56enne stesse tentando di smaltire in maniera illecita la spazzatura proveniente dalla sua macelleria.